A Montefalcione tre giorni per street art, street band, street music, un vero e proprio festival, Presidente Ennio Pericolo, come nasce questa idea della Proloco? Come nasce? Diciamo che noi avevamo già una manifestazione più o meno simile, che si svolgeva più o meno intorno a una decina di anni fa, si veniva per le pietre del borgo, penso che molti telespettatori l'hanno frequentato, e già in un certo senso facevamo dei giri all'interno di per le vie del borgo con della musica internazionale da strada. Dopo un po' di tempo ho immaginato con i soci della Proloco di creare qualcosa di diverso, che in un certo senso si fondesse col territorio, quindi street, tu immagini la parola street, quindi ci abbini il food, ci abbini l'art, quindi le arti con dei murales e ovviamente le street band. Ospiteremo circa 15 street band da tutta Italia. E parlando di cibo di strada? Cibo di strada praticamente ospederemo più o meno 8 regioni, tra cui Sicilia, vabbè diciamo tutto il centro-sud Italia per quest'anno, perché ovviamente la manifestazione, quindi iniziamo dal centro-sud Italia, quindi passo dalla Sicilia alla Puglia all'Abruzzo, quindi ce ne saranno delle buone. E se ne sentiranno delle belle. Guardando poi anche delle premiazioni finali, quale sarà la conclusione e diamo l'appuntamento. Sì, allora, quando l'abbiamo immaginato, l'abbiamo immaginato come non rassegniamo a festival, quindi ogni serata ci saranno 6 street band da tutta Italia, ogni serata premeremo una street band che sarà ospite per l'anno successivo. L'anno successivo ci sarà un premio in denaro e una borsa di studio per alcuni ragazzi che stanno sotto i 17 anni e che parteciperanno alle street, che sono presenti nelle street band. Diamo l'appuntamento a Montefalcione? Montefalcione 22, 23 e 24 agosto, quindi lunedì, mercoledì. Ce ne saranno delle belle e delle buone. Quindi aspettiamo i telespettatori on the road, in the street. In the street, sicuramente in the street. Grazie infinito.